non ti sta bene non mi sa bene che quasi non ti conosco già poco ma no è la seconda volta che fai di testa tua alla terza ognuno per la strada sua intesa ecco quasi tutti questi tizi sono pregiudicati io vi busco la roba poi mi ha dato il 70% del video avuto e il 10% del video e il 10% del video e 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